La signora Ramona stamattina è ritornata a casa da suo figlio e dai suoi parenti. Un po' confusa ma in buona salute è stata ritrovata sana e salva Ramona Zinta, 39 anni, scomparsa dal 2 aprile scorso alle 19 a Ginosa. Si era creata grande apprezzione quando la donna di origine lettone ma che vive nella cittadina della provincia di Taranto si era allontanata in una pausa di lavoro dal ristorante in contrada La Pescarella, senza però dare notizie di lei perché il cellulare l'aveva il giovane figlio che ha poi lanciato l'allarme. In poche ore si è attivata una massiccia macchina di ricerche con forze dell'ordine e tanti volontari. Il sindaco Vito Parisi ha convocato un tavolo di coordinamento tecnico a perlustrare la gravina anche l'occhio elettronico dei droni e i cani molecolari del gruppo cinofili dell'Endas. Ramona questa mattina è stata trovata a pochi chilometri dal luogo in cui era scomparsa la soddisfazione dei volontari capeggiati da Arcangelo Caressa. Ieri sera siamo stati attivati noi come Dipartimento di Sicurezza Cinofili Endas, l'autorità giudiziaria. Stamattina siamo andati sul posto insieme a due operatori con i nostri cani molecolari, i nostri broodown. Mentre ci stavamo mettendo d'accordo lo comandante dei carabinieri per come muoverci a livello tecnico, per come estendere le ricerche, il comandante stesso ha ricevuto la telefonata che la signora era stata rintracciata da una persona di un cittadino, era stata vista. Noi dell'Endas siamo sempre pronti, sempre. H24, 365 giorni l'anno, lo facciamo per passione e per amore. Siamo persone che lo fanno a titolo gratuito. Grazie a tutti.